La persona umana rimane sempre preziosa anche se è segnata dall'anzianità e dalla malattia. Lo ha ricordato con forza Papa Francesco incontrando nella Sala Clementina i partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia per la Vita. Al tramonto dell'esistenza terrena, quando la vita diventa più fragile, l'abbandono è la malattia più grave dell'anziano e anche l'ingiustizia più grande che può subire. Così il comandamento biblico che ci chiede di onorare i genitori assume un valore straordinariamente attuale nella società contemporanea dove la logica dell'utilità prende il sopravvento su quella della solidarietà e della gratuità persino all'interno delle famiglie. Pensando al tema della plenaria, il Pontificia ha quindi incoraggiato tutti a esplorare nuove aree di applicazione delle cure palliative e ha ricordato che ogni conoscenza medica è davvero scienza solo se si pone come ausilio in vista del bene dell'uomo. Evidenza ed efficienza non possono essere gli unici criteri a governare l'agire dei medici, nello sono le regole dei sistemi sanitari e il profitto economico. Uno Stato non può pensare di guadagnare con la medicina. Al contrario, non vi è dovere più importante per una società di quello di custodire la persona umana.